I volontari sono persone che decidono liberamente, spontaneamente e senza fini di lucro, di mettersi a disposizione degli altri. Si tratta di un impegno che permette di aumentare le interazioni tra i gruppi e riconoscere il valore di tutte le persone, a prescindere da sesso, età, origine e disabilità. Essere volontari vuol dire non lasciare nessuno da solo. Infatti non solo permette di legarsi alla propria comunità e fare rete, ma anche ampliare le proprie conoscenze e i propri legami. Nel nostro Paese sono 40 le persone registrate all'albo dei volontari e che credono in questa causa. La speranza è che sempre più persone decidano di regalare parte del loro tempo agli altri, dando il proprio contributo alla comunità. Fare volontariato aumenta la capacità di relazione e cambia il modo di vedere le cose. Il 5 dicembre è la giornata internazionale del volontariato, volta a riconoscere e promuovere l'impegno dei volontari di tutto il mondo. In occasione di questa giornata illuminiamo il nostro castello di arancione, come simbolo dell'energia e dell'entusiasmo dei volontari di tutto il mondo. Fare volontariato riempie la vita e fa crescere come persona emotivamente e nelle competenze. A tutti i volontari l'amministrazione vuole dire un grande grazie per l'impegno, il tempo e la dedizione impiegati a favore degli altri. Facciamo luce sulla giornata internazionale del volontariato.